no comunque si da in onda quindi ci dovremmo essere probabilmente tra poco in preg 2 andiamo un po te quindi cavaliera manetta parti da tutto dall'inizio si dai no trovo sempre i cavalieri che mi fanno il culo no no i cavalieri sono bastardi più che altro vanno sempre quella vanno sempre con la guardia in alto che hanno quel controattacco fetente lo sai fare il controattacco fetente eh no ma probabilmente perché chi gioca con i cavalieri punta tutto su quello perché ogni volta perfetto ok status campione a manetta anche per loro come minimo se no allora io mi affido al kensei vediamo 108 dai 108 no sapevo che ti abbassò la media di voti eh equilibrio la notorietà con non la notorietà credo ma non credo che il matchmaking sia così evoluto se no se no non avremmo tutti sti problemi dalle altre parti non voglio non voglio non voglio non voglio non voglio da uno ma ecco perfetto questo questo è il matchmaking ok vediamo se riesco vai vai io intanto controllo una cosa e se ti rinvito questo gioco ha dei seri problemi comunque ma seri ma veramente seri sì sì ancora for honor no no non è che siamo crashati comunque non siamo crashati è for honor che fa così ogni partita quasi fa così no no bastardo eh no allora gioco da rocci mi fottono male ah già tu sei sì no o mi inviti tu o ti invito poi io dopo che sei rientrato online comunque sì sì ancora svarionamento sul frono a manetta perché si deve salire eh no c'è un po' di no no non è in beta solo che sono proprio fatti così i server cioè o devono potenziarli o come sempre Ubisoft al lancio ha un po' di problemi che quindi deve aggiornare il gioco fino a quando il gioco non diventerà più o meno stabile ma comunque non ho il gioco è uscito a San Valentino il 14 sì poi le partite certe volte largano allora fammi vedere un po' come posso fare il mio Kensei intanto che ti aspettiamo allora questa armatura fa pena non mi piace no poi come sempre ogni titolo Ubisoft al microtransizioni a manetta morto sì sono morto no riscopro il cadavere porca mjel non ha range sto cavaliere ho notato anch'io c'ha lo spadone ma non so come fa non ha range cioè dai invitami bella invitiamo vediamo un po' eh bella sì sì siamo attaccati qua stasera mischia vai ricominciamo mischia sperando che regga ma io spero per te ma io spero per tutti eh no ma cioè è così è così il gioco proprio come quando non non crashi tu non crasho io durante la partita che tu abbandoni così cioè è il gioco che decide queste cose elezzo da sto lato elezzo da sto lato perché mi precisi sempre un po' più profonda perché è giusto no sono sono fatto così poi io ti ricordo che allora io l'ho approcciato male sto sto gioco perché la prima la prima settimana non l'ho praticamente giocato la seconda settimana ci ho giocato e gli ho fatto piovere le manne dal cielo perché mi piaceva il gioco ma era rotto proprio all'osso perché un combattimento è basato sull'uno contro uno svarioni in dominio in mezzo a non so quattro nemici per volta che ti chiudono in un angolo come fai a sopravvivere lì però ok poi adesso l'ho approcciato in modo diverso mi sto abbastanza divertendo però no certe cose devono essere sistemate proviamo a sfondare sto rocci buona fortuna scassalo perfetto no no a te cosa è successo a me niente sto sempre dentro ecco quindi stasera è a me che fa girare i coglioni fammi capi stasera non c'è stata a faro composizione del team no in dominio puoi scegliere chi cavolo vuoi cioè puoi prendere proprio chi cavolo vuoi in dominio anche tutte e quattro uguali in mischia puoi prendere cioè la squadra deve essere formata da due membri diversi quindi cioè anche della stessa fazione ma diversi poi nel dominio e nel deepmatch nei 4 contro 4 non funzionano i perk delle armature invece nei duelli cioè funzionano i perk delle armature nei duelli e nelle mischie cioè nell'1 contro 1 nel 2 contro 2 non funzionano però puoi farli funzionare negli scontri personalizzati quindi proprio anche sta cosa non si capisce cioè di qua si di là no vai facciamo cose così vediamo com'è poi intanto quei mesi lo aggiorniamo quindi comunque prova a invitarmi tu che intanto Marchevala stasera si salta tutto e giochiamo con i bot cioè proprio poi vedete qua anche Ubisoft no? gesti disponibili sbloccare le tante non hai tempo compra come dice Inf non hai tempo compra compra acciaio vedi season pass si si status camp vuoi prendere di più? compra l'acciaio no compra l'acciaio vuoi prendere più punti? compra lo status campione un anno sono 65.000 sono solo 100 euro ma tu puoi farlo perché hai solo speso 70 euro per il gioco più 39,90 euro per il season pass quindi 100 euro puoi tirarli fuori cioè proprio Ubisoft io la amo perché i giochi di Ubisoft li compro tutti ma mannaggia cristo sono io che dovrei spammarti la presa no tu che sei la testa che gira si si bisogna pagare bisogna pagare Bloodborne 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 è finito? Bloodborne l'abbiamo giocato? Bloodborne più di una volta anche Bloodborne l'abbiamo finito anche Dark Souls 1, 2, 3 giocati tutti arrivi in ritardo comunque poi non c'entra un cazzo Bloodborne con For Honor c'è proprio un'altra tipologia di gioco no c'è proprio ti fa l'acqua d'aria che non lo pari il Kensei si no il coso il chi? il Loroci no ne fa un botto di attacchi Loroci che non non ce la fai cioè proprio quando uno sa giocare con Loroci tu non ce la fai neanche a paragli una cazzo di mosse comunque si prova a invitarmi tu perché io ho un brutto presentimento stasera è meglio di Ender Scroll o For Honor? sempre giochi diversi Skyrim è in prima persona Ender Scroll poi vabbè dipende quale dici perché c'è Oblivion Skyrim adesso è uscito quello online però vabbè For Honor alla fine uno contro uno è quello cioè cioè invece Skyrim non può eh sì cioè l'altro è un Open World JDR a manetta dove ci passi centinaia e centinaia di ore però quando l'hai finito quello è è questo multiplayer sì ma però se dici è meglio Ender Scroll o For Honor come combattimento For Honor cioè il primo gioco dove gestisci con la direzione dell'arma e della parata Skyrim ha i tre attacchi quello orizzontale e quello verticale ma poi c'è le magie e la parata vai vediamo che poi io sono sono verde è a posto la connessione dai vediamo ti tiene hai settaggi uguale all'altra sera non so perché stasera mi sbatteva fuori lo sapevo che abbassa la media vabbè meno male e poi comunque giusto cioè te preferisci beccarti uno con una notorietà alta almeno proprio ne sai già memoria le mosse del Cavaliere sì però è quel che è il Cavaliere la faccia che ti senti altra cosa vai dai Ubisoft siamo in te non sbattermi fuori a me mi dai l'alabardiere qua vicino a un ponte grazie din 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 no eh dai proviamo così allora bravo ne sai un botto zio no 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 è fattuto no l'ha presa quando fa sta cosa quando fa sta cosa è morto non volevo non l'ho fatto apposta no io l'ho buttato giù per sbaglio no è che gli ho ficcato una tranciata e gli è volata via la testa proprio c'è no l'ha da via il pezzo c'è il peggio ma già le fiammi dietro la schiena vai vai un po' vai no uh no uh è bravo ti fa le finte ma ai 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 no mi spinge giù no eh anche me ha provato a spingermi giù eh ma spinto giù è diverso bello ok vai scassalo eh ok ok se no ci sta ci sta ma mi hanno dato il kensei in un posto chiuso dove praticamente ero immobile lì sopra cioè madonna no ho paura io qua con l'alabardiera mi sbatte giù questo bottina bravo buonanotte ah l'alabardiera si suicidia dal secondo piano era in esaurimento nervoso da tre mesi non ce la faceva tornare a casa dalla moglie quindi si suicida giù con una cazzo di scarpata così facciamo gli onorevoli vai faccio il tifo scassalo no 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 mi sento come una merda col cavaliere no 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 ci ci fa proprio niente a combattere da b che sai che faccio tutto ma con questo qua no quindi che fanno scappi così e basta madonna madonna maddio no no non ha l'alabardiere ti butto di sotto rianimato io ti ho dai dai sei bastardo vieni qua ah vedi sta mossettina mi rompe sempre le palle oh perché non l'ho stunnato? oh no 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 sta mossa niente non c'è stata fa questa si prende il gioco di me si prende il gioco di me no no me l'ha parata perfetta ok ah sei sotto? no sono morto vabbè no vabbè ti rianimo però in caso che muoio io ecco proprio tipo zero questo complimenti guarda te lo scrivo anche tu sei proprio quelli usciti tu sei proprio usciti quelli nati dal culo e devi saperlo perché questo è uno nato dal culo proprio vabbè c'è ecco adesso incomincia con ste spinte e rompe le palle più solo con sta roba no mi ha spinto di sotto appunto no vabbè ma sto personaggio sto personaggio fa schifo veramente cioè andava solo avanti con le spinte non è possibile no ma ti ho detto le spinte sono cioè dai va bene buono madonna madonna riduzione questo lo smantegliamo schieriamo le risorse che perché non l'ha capito e gioca for honor è meglio che lo faccio perché sennò fa perdere la fazione sì ma Godzilla è un gioco di merda proprio con tutto il rispetto che ho per gli sviluppatori ma Godzilla è veramente una merda cioè se avete 40 se avete sì no appunto è stato lanciato a 69,98 euro e se volete vedervi il l'erciume cioè scrivete Godzilla e vedetevi un gameplay della Playstation e fa schifo in qualsiasi modo in qualsiasi modo lo vedi lo metti anche in 4k fa schifo quel gioco anzi è ancora peggio perché vedi di più i quadretti cioè è proprio una merda cioè buttateli da un'altra parte i soldi secondo gioco di ero combattivo Godzilla se vuoi fare il regalo più brutto fai Godzilla fai Godzilla e vai su sicuro non lo so se no con 40 euro ne compri di giochi cioè o comunque te ne prendi anche solo uno ma di sicuramente è meglio di Godzilla cioè con 40 euro non so ti facciamo una petizione per cosa per cosa è vero è vero adesso si si le petizioni si fanno per tutto intanto ormai il doppiaggio in italiano per Masser che petizione si si no beh quello ci sta però perché gli altri tre erano doppiati però cioè anche se me lo fanno in sottotitolato mi va bene piuttosto faccio una petizione per sottotitolare Berserk cioè quello dovevano sottotitolarmelo che già stanno facendo un anime di merda cioè è uscito è uscito solo il manga mi fai il videogioco che tiene tutto il manga fammelo bene anche sottotitolato perché il gioco in sé è figo per essere un musù però cioè me lo fai in inglese io ci ho capito per carità però cazzo poi non metter cioè poi in un videogioco come Berserk non mettermi la censura cioè Berserk che bello perché non ha censura cazzo no la puglietta satanica io lo sapevo io lo sapevo io c'ho un problema enorme su sto gioco che è lo spezzaguardia se uno mi fa lo spezzaguardia vince perché io non so controgiragliela quindi a posto come fai a giocare con il cavaliere e non fa non fa la mossa e la range no quella l'unica range L1 si R1 R2 quella per la mossa speciale tipo da migno non sto oh bravo questa è fetente quella lì vuole sbattermi giù ma io piuttosto parlo la tectonic tan 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 e l'aspetto perché io lì non ci vado no ed io fa il pro fa il pro no 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 non lo so usare ma veramente tutto tutto sulle parate sulle finte cioè no ti ho sentito arrivo sanno un attimo ok no però beh calcola che l'hai iniziato usare stasera quindi è normale che non sai come giustrartelo però comunque no visto quello il cavaliere va tanto di contrattacco in alto perché mossa non so che mossa ha però è partito sta venendo non so se sta venendo verso di te o ha solo cambiato posto mi sa che sta venendo da te ah no è vero no oh sta non so ok ok no perché è vero oh vai continua ma cazzo cazzo ma qua sono vicino no non riesco non riesco tempo per me non mi è naturale eh dai mi è naturale mi è naturale parare no 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 cosa fa la pacificatrice oh zia è bastarda ma stai scherzando ma dai ma che sei zoccola avviva la vendetta non è una mica vera buonanotte ti spiega ti spiega guardia ma larga ma larga questa oh io vedo che larga di brutto c'è vedo c'è vedo tipo le freccettine e c'ho già il colpo no no ti scanno ti scanno come on come on bitch ok dai dai pacificatrice ormai è una questione personale eh sì ti aspettavi che la facessi oh ma decidetevi non è che se cambi posto vinci sempre pigli oh mi spiace cazzo ti ho tirato una botta sei finita giù no vabbè con lui io non lo attacco perché prima si è comportato bene no ho fatto una finta ok proprio non riesco non riesco vabbè ma non saprei neanche che cazzo di attacco fa no ma di solito sembra che proprio non mi viene naturale parare con questo personaggio perché non lo so mi da quel senso di lentezza questo ha capito che non so usare lo spezzaguardia va bene eh no non ce l'ho fatta a sto giro se no eh questo è bravo più che altro è che ha capito che non so usare lo spezzaguardia quindi adesso lo usa 5-6 volte di seguito a botta a perciò che non so che non so beh vabbè sentirmi le sberle... non mi fa! beh continua ho tempo è troppo lento! no! oh bug! mi è uscito fuori esecuzione e poi è sparita c'è, buh, vabbè non c'erano, non c'erano! oddio no oh di nuovo, ma che cazzo è? eh, è quello che fa no adesso ho schiacciato però dai che cazzo cioè me lo aspettavo che lo facevo, ho schiacciato appunto proprio quando l'ha fatto, no niente c'è, buh ma si può cioè ma io faccio una petizione a Ubisoft per il cazzo di personaggi che si inventa, questa spingeva solo c'è, buh resistenza debuff, no? che schifo troppo troppo por che troppo se vuoi mettere altre modalità mettire? eh eh, non lo so se vuoi usare il Kensei, non so, vuoi fare eliminazione o qualcos'altro, cambia no no no, continuiamo no più che altro è che ho visto che volevo usare il Kensei oh ma devo utilizzare questo personaggio perché se no non ce la faccio no lo so sono sempre vincolato al Kensei eh no quello si ma perché hai usato quello adesso per salire, è normale che sei un po' spaesato ma non sai come usarlo anche perché cioè io adesso stessa cosa ecco che scioglio il gruppo vai provi a invitarti io a sto giro cioè dovresti usare un altro personaggio adesso come adesso io non so è come che attacchi hai cosa cioè iniziare ad usare uno dopo che ti sei fissato qua e qua cambiano tanto i personaggi ciao eh è quello vai mischia ah boh cos'era la seconda vinci tre mischie PWA facciamo un attimo PWA si dai no ci partiamo della ossa vai vai almeno facciamo anche sta tagliettina che ancora lì intanto se usi appunto il cavaliere non ti ciulo il Kensei per me veramente veramente ma chi ha chiesto prima Ender Scroll o For Honor state giocando a Ender Scroll? cosa? no prima in un commento hanno scritto Ender Scroll o For Honor? allora ho chiesto state giocando da Ender Scroll Online? magari l'hanno aggiustato hanno messo i sottotitoli in italiano non lo so no Shugoki no 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 maledetto figlio di puttana giapponese vieni qua madonna vabbè mettere le ammazzate sto stronzo dai dai figlio di baldracca vieni qua tra un po' ho visto tra un po' vedevo un Omran giù per il muretto bella lì ma freddi merda ma questo a livello 1 ma questo a livello 1 però è quello e mi è fatto il culo si vabbè ma Shugoki ti tira un'ammazzata ti fa fuoricampo come baseball uh parte subito così oddio larga la pacificatrice larga fidel trasporta oddio 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 la pacificatrice, inf, che sono... gli vado anche dietro non mi tocca, guarda. Sì, non sai come approcciarti. Io ho visto un botto di cavalieri che con te, che concatenano solo la loro spezzaguardia, con l'altra mossa, quell'arancione che è un altro spezzaguardia, cioè tutto così fanno. Oh cos'è la roba? No, no, mi lagga. Non so te. No, ma adesso, cioè per adesso no. Dopo se allora invitami tu. No, sono morto per il... Allora sì, sì, invitami tu dopo allora. Invitami lo scatti. Sì, sì, invitami tu. No, no, a me va bene. Sì, sì, invitami tu adesso. Hai raggiunto notarietà due, livello otto, bello. Però mi dà sempre pezzi bianchi, vabbè. No, 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 no. Sì, 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 esatto, esatto, esatto. Hanno postato un commento che ha scritto Ah, questo è Sparta, sì, sì, esatto. Qua è perché l'ho sbattuta giù per la riva. Sì, sì. Sì, ti avvisavano anche quando ti sbattevano giù. Ti urlavano i pazzi per avvisarti, poi almeno ti avvisavano. Sì, sì, esatto. Allora. Vai, vai. Sì, sì. Sparta manetta. Quale merda solo? E voi cosa giocate, cosa giocate? Senti che si acciona la sigaretta, senti. Sì, sì. Perché For Honor fa salire la tensione, la manetta. Mi fa incazzare. Anche quando uccido. Perché comunque, boh, certe volte schiacci i comandi ma non mi fa quello che voglio perché devi farle in combinazione e sono lenti. Cioè, proprio non mi trovo. Tranquilla che dopo, tra qualche giorno, faremo streaming su Ghost Recon. Sì, no, no. Vero, preparatevi già. Poi, io dico, parlo sempre al purale, ma magari non ci segue un cazzo di nessuno. Ma io lo dico. Tra un paio di giorni iniziamo Ghost Recon. Wildlands. E ce lo spareremo tutto in live, quello. Proprio manco lo accendiamo. Cioè, proprio accendiamo in live, diretti, tac, tutto in cop. Lo possiamo in cop, perché manco lo accendiamo. Sì, no, nel senso, lo accendiamo la prima volta in live. Ma entriamo, non sappiamo che dobbiamo farci. Faremo ancora il tutorial cagacazzo, perché tutti i tutorial sono cagacazzo. Poi già la prima sera ci spariamo tipo 2, 3, 2, 3, sì. 4, 5 ore di live, perché saremo attaccati, attaccati, attaccati tutta la sera, come siamo noi. No, ma poi sto mese, mese, c'è ciccia per i videogiochi. E' uscito For Honor a febbraio, con Neo, che è bellissimo anche quello. Vabbè, a gennaio Resident Evil. Poi è uscito, vabbè, l'altro ieri è uscito Horizon Zero Dawn, che a me sta piacendo un fottio anche quello. Questo mese, eh, e appunto, Ghost Recon, sì, Ghost Recon praticamente stanotte a mezzanotte esce, perché il 7. Il 10 esce Nier e il 23 c'è Masekfet. Cioè, proprio a manetta proprio quest'anno. Però mi piacerebbero gioconi più come, cioè, potenti come Horizon, cazzo, potenti, potenti. Perché dopo Masekfet e dopo quelli che usciranno a marzo, cioè Nier, io so già che a ottobre ci arriva la solita roba di tutti gli anni. Cioè, quest'anno, vabbè, esce Star Wars Battlefront 2, perché Battlefield 1 è uscito l'altro anno. E uscirà il nuovo COD, che proprio, mamma mia, no, grazie, cioè, no. Eh, qua incominciamo a sbarionare, io ve lo dico. Qua non è più, cioè, uno contro uno onorevole, no. Qua è il devasto, e basta. Oh, no. Ma qua è proprio solo il devasto. Bello, contro due berserk, ma non stanato. Ok. Ho visto morire la canta. Bello. Bello, allora. Proprio... Vedi una cosa, allora. Che mi hai detto sta cosa? Allora. Ah, beh, buono. Io ho giocato dalle tre alle otto Skyrim, perché mi ero infognato. Figa, grande. Oh, ho Fukushima, Nagasaki. No, eh. No. No, Skyrim, ma i tempi ci sono stato attaccato anch'io. Tra loggie, maledizioni di lupi mannari e tutte quelle robe lì e la storia che è eterna, ci sono rimasto un botto anch'io su Skyrim quando ero uscito. E' peccato che mi hanno fatto questo Ender Scroll online, che neanche stendiamo un velo pietoso, stendiamo solo un velo proprio e basta. E quindi non l'ho preso anche perché è solo sottotitolato in inglese, sennò avrei preso anche quello. Tu, Inf Skyrim, ci hai cazzeggiato su, aveva voglia. Skyrim? Fall out, sì. Tanta roba. Fukushima, madonna del Dio. Scassali, scassali. Guardate che bestia che è. E' proprio una bestia, Infelost armaturali. Ne aveva tre, diokane ha fatto scappare. Uno è scappato perché si è riempito le mutande. L'altro l'ha ucciso e questo tra poco morirà malissimo. Esatto, vedi? Che ti ho detto? Oh, madonna. Chi c'è qua? Ok, bravo. Crepa. Cacca giù. Arriva, 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 arriva. Prima però, scusate, ma penso ai conoscenti. Madonna, nel l'angolo. No! Oh, guasta. Mi fai queste cose. Uh, che culo. Ho visto una madonna. Ho visto una madonna. Ma meno male che almeno il Dio can quando fai le sprangate vanno tutte a manetta. No, ma dai, c'è vabbè. C'è mai visto che io lo stavo attaccando dietro e non si stunnava? Ma ecco, perfetto. Yeee. Questo sta andando avanti a essere stato sbattuto per terra, sto berserco. Beh, se vuol dire che è uno facile. Vabbè, non mi fai paura. Quando mi fareste queste pause di silenzio? No, perché me la sono un attimo immaginata nella testa il berserk che veniva spattuto. Oh, non ci credo. Ma ha spinto l'amico volato giù, cazzo. Gati. Oh, no, eh. No, 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 no. T'ho parato il culo, hai visto? Ok, faranno la spintoni. No, tutti e due. Ma non ci credo. Chi è che mi ha tirato il meteorite? Faranno la spintoni. Sì, ma quello hai visto? Ha smesso anche lui, andava a spintoni più solo anche lui. Vedete, questo gioco è un po' la base è rotto. Il combattimento dovrebbe essere tattico all'arma bianca, invece ci sono ceti che si impuntano e vanno solo di spintoni. Vai. Partita molto equilibrata, 1418. No, no, figlio di puttana. No, l'ultima da super. Bastardo. Perfetto. Non hai arcieri? Madonna di quella. La morte così non ha valore. Proprio devastato da un berserk preso alle spalle. Boh, berserk morto. Allora andiamo sul conquistatore. Sì, sì, di animali. Bomberissimo. Vai, scassa l'infe. Vendetta. Sì, però è in tre. Uno contro tre. Uno contro tre. Quattro, scusa. Uno è andato. Ce ne sono ancora tre. Vendetta. Madonna di Dio. Resistenza fino alla fine. Non resisto, non resisto. Boh. Spezzato l'osso del collo. Non aveva sentito neanche muovere le lezette. Stavola fermo. Due cinque. Un punteggio di merda ho fatto io. Un punteggio di merda. Di merda. Di merda. Dai, questi ordini. Abbiamo finiti? 74 ore. Non lo sapevo, ma sapevo che erano permissivi. Guarda. No, stai scherzando. Lo sapevo. Perfetto. Quindi la cassa neanche stasera. Quindi, che palle ho. No, no, no. La prendiamo stasera. È solo che hanno aggiornato l'ora e il cronoptero. Quindi vuol dire che non è. Sì, no. Stasera, stanotte. Sì, quando finisce. Sì, quel cavolo che non te la danno. Ubisoft te la dà sempre. Meno male che te la dà sempre. Eh, baggata col culo, però te la dà sempre. Sì, sì. Ho avuto, ma ho avuto matto a mio caso. Voto, 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 voto la scheggia. Se guardi il live della prima sera c'era il devasto. Proprio il massacro, proprio totale. Che io ne avrò ammazzati 5 in un'ora e mezza di live. Beh, no, no, stasera già va un po' meglio. Va un po', un po' meglio. Poco. Ma forse era ironico. Vabbè, se era ironico, allora buona. Se era ironico ha ragione. Ci può anche stare, dai. Dai. Vedete anche caricamenti veloci, subito. No, si può dire che Foronor è stato fermato. Ti è stanzionato. Abbiamo Abram contro. In out there. Kamigemu. E' crisis. Siamo pronti al massacro. Avanti. Al massacro in senso generale. Perché magari veniamo massacrati, proprio arati. No, no, nessuno è giusto. Nessuno è capace, è ragione realizzata. Boh, subito. Guarda, guarda. Che arriva già subito. No, no. No, spingi di sotto. Tutto lo di sotto. Tutto lo di sotto. No. No. Ma guarda. No. Ops. No. No. Ci ha bomberissimi. Vai, vai, fui, fui. Vaffanculo. Io arrivo. Quel personaggio lì è fetento. Il conquistatore è fetentissimo. Ti sbatte giù direttamente con la rincorsa. No. Perfetto. Mi sono crashato di nuovo io. No. Niente, stasera non regge. Allora, al massimo, chiudo la prima del streaming. Ah, sì, no. Ma sto vedendo. Boh. Cioè, la barretta ce l'ho verde. Non so. Ma, ok. Sì, no. Allora può darsi. Non so neanche a quanto sia, probabilmente. Però non è tanto. Non puoi rientrare? C'è commozione? Ah, no. Ho guardato. Non c'è. Cioè, c'è solo in vita, visualizza. Perché io sennò sai cosa faccio. Io lo riavvio a standard, non a levata. Massimo, ma puoi farlo durante lo streaming? Eh, no. Si interrompe e si riapre. Ah, beh, no, no. E poi, vabbè, cancelliamo questo dal canale, Massimo. Non lo so. Ma, beh, no. Concludiamo con questo. Cioè, finiamo con questo. Dopo, al prossimo, facciamo più basso. Sì, no, eh. Bisogna anche capire perché certe volte regge e certe volte no. Ma porca, però, io. Ucciso da ambiente. Ucciso da ambiente. Buono. Sì, sì. Cavaliere è figo, però. Come... Cioè, i personaggi sono fighi. Sì, sono figli e solo porca. Porca è schifoso. Cioè, sono troppo generali. Cioè, limitati a quel tipo di combattimento. Ah, no, sì. Ognuno ha le sue peculiarità e fanno solo quello. È quello il problema. Sì, no, comunque... Grazie a tu, cazzo! Comunque, sì, no. Devono aggiustare... I server sicuro devono aggiustarli. Perché... Cioè, sì, ok. Magari stasera è la mia che non regge, ma... La maggior parte delle volte la partita... Cioè, otti di sconnessione o robe così. Sì, ma... Andrà a giorni. Ah, sì, ho capito, ma un gioco non può andare a giorni. Eh, quello... Cioè, deve andare tutti i giorni, cazzo, un gioco. Cioè, soprattutto se ti fanno... Se ti fanno pagare 70 euro al gioco, più 40 al season pass. Cioè, deve funzionare tutto. Mi ha ucciso spingendomi. Sì, buona miseria. Ah! Come sempre. La maggior parte delle volte... Finisce così. Cioè, lo ti spingono giù da qualche parte. Vabbè, dai, troppo arrivo. Ho fatto manco a 200 punti. Vai vai. Io intanto mi faccio... Una mischia in PWA, perché intanto... Devo fare le tagliette. Dai, dai, te cosa cambieresti di sto gioco avanti? Punti di forza e difetti. In base alla tua esperienza. Toglierei le armature. Sì. Rendere... Nel gameplay ci sta. Tipo con le levette, le difese. La devi rendere più reattivo. Cioè, mi sembra quasi di avere joystick con la zona morta a 100. Un po' schifoso. Sì, sì. No, no. Ho capito quello che vuoi dire. No, sì, no. Ste cose le ho notate anch'io. Cioè, i tasti non sono responsivi. I tasti... Devi dare quella direzione lì, perché se la direzione proprio non è quella, non te la fa. Cioè, proprio... Però anche lì, i tasti devono essere senza ritardo. Non è reattivo quando schiacci. Un gioco che ho provato reattivo ultimamente è Horizon. Cazzo, schiacci e lo fa al movimento, cioè. Ok. Questo è andato. Comunque no, poi... Io finisco sta mischia ed esco. E vediamo se... No. Anche a te ti laggava anche prima. Quando facevamo PUA ti laggava. Allora, cioè, tanto vale. Vabbè, proprio questi i carni da macello. Poi... Vabbè. Sì, mi manca l'ultimo round e arrivo. Peccato. Che schifo. Cosa? Cioè, il nostro territorio si è... Si è trasformato in un fottuto giardino. Mi dimentico, guardate. No, un balcone con una pianticina sopra. Sì, no, ma secondo me non l'hanno capito che devono... Che devono sempre mettere le risorse. Perché, boh, mi sembra un po' impossibile come cosa che... Al mattino accendiamo e un po' di territorio comunque ce l'abbiamo conquistato. E invece, alla sera, diminuisce drasticamente come se nessuno spammasse risorse sul territorio. Cioè, boh, io non riesco a capirla sta cosa. Cioè, se spammia il pomeriggio perché non spammia la sera? Boh. Cioè, spamma, spamma, spamma. Ok, io la mischia l'ho finita. Non so, ti rinvito anche, però cosa facciamo? Facciamo sempre mischia. Vai. Non posso invitarti, però. Stavo guardando, ho staccato tutto, download, non ne ho. Vediamo. Non lo so. Ma veramente. Sì, no, no, ho avriso tanta roba. Hanno preso un po' da tutte le parti. Perché, boh, cioè, la prima volta che lo avvi e vedi la mappa, proprio dalla schermata che vedi la mappa, dici, cazzo, un Far Cry. Però no, cioè, da Far Cry appunto hanno preso un botto le icone della mappa, hanno preso le torri e le cose di... e le zone di caccia. Hanno preso gli osservatori da Assassin's Creed, hanno fatto un miscuglio, però, sotto forma di come hanno pensato quel gioco, quindi... in quell'ambito lì, quindi ci sta un botto. E poi i tasti... Sì, ma come... E' uno che non ho mai usato, cioè. E che vuoi dire? Ecco. Amante dei COD, ok, ritornaci. No, amante dei COD, no. Cioè, io mi domando... Come fai a chiamare un profilo amante dei COD? Va bene che io i COD li ho giocati tutti, a parte l'ultimo, perché l'ultimo veramente mi ha rotto le palle, anche Black Ops. Cioè, Black Ops sì, per carità, bel gioco, ma proprio quei primi COD non c'entra un cazzo, cioè, tornate un po' coi piedi per terra, senza jetpack del cazzo, override, e tutte ste stronzate, poi ve lo ricompro. No, 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 no. No, 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 no. Yeah. Questo personaggio comunque, da quello che ho capito, mi sa che è troppo statico per i miei gusti. Cioè, pure lì... E' uno spinto lì. Sì, ma sai che che merda è, cioè. Bello, battaglia da Tritania, attenzione. No. Attenzione. Nè, mi spiace Ciccio, c'è un po' no. Attenzione. Immossione assurda, si ricarica la vita. Amante dei COD. Buono, si, si. Va bene che sono in serata. Fatti lo sciogò, fatti lo sciogò a Kinf. Dai, Marco Baldo, dai. Niente qua. No. No. c'è bravo con calma e sangue freddo bella come le mosse di questo dai lì qua panzone questo credo che è il personaggio più brutto che abbia mai usato no no sotto un coglione mamma va tranquillo spingerlo perché lui va ha solo colpi in alto tranquilli sì ma tentava ma no ma che schifo sì no ma dai due giorni che uso un personaggio non posso usare un altro cazzo è la stessa cosa tua come usavi tu prima il cavaliere e morivi per forza amate del coda no 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 dai dai con calma par ecco ma va a fa un culo e ti stritola ehhh vieni qua panzecchione no No! No 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 C'è questa cosa che mi fregna Ti laggava te? No no, se non hai fatto la parata con te piszo sbagliato Eh allora ho capito cos'era, era la wifi Boh, c'è sto alabardiere fa veramente schifo Ma fa veramente schifo Non è veramente una merda Call of Duty dopo Ghost ha fatto schifo secondo me Secondo me pure già Ghost ha fatto schifo Cioè già Ghost non mi è piaciuto un cazzo proprio Mappe piccole Grafica penosa No no L'ultimo cut che si L'ultimo cut che si salva Che mi è piaciuto un botto E' stato E' stato Black Ops 2 Anche Black Ops è casino No 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 Oh! Oh stronza Proprio dopo Dopo Si si dopo Call of Duty Poi beh ho giocato anche Modern Warfare Però si dopo Dopo Black Ops 2 sono andato sui Battlefield Che proprio COD Non è più COD Cioè E' uno spara tutto arcade in stile futuristico e basta No 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 Fanculo Quando trovi il Cavaliere ti devastano Lo uso io Fa cagare Non so perché No Fa sempre quel colpettino Di lato E' quello Poi va avanti con quello spintone Dai dai andiamo su dominio o qualcosa così dai Tanto Probabilmente era la wifi Si si Perché Non mi sono ricordato E' facciamoci l'ultima Dominio Vai vai ci spariamo Un bel dominozzo Si intanto comunque facendo Facendo questo partito Lo teniamo sull'ora e venti almeno No un'ora e venti Vediamo un po' Vai ci dicono fate casino spaccate tutto Inf No no qua li sbatto solo Solo I punti Proprio di sotto li sbatto In telefonia Non è che la spada dal fodero Spada dal fodero Spada dal fodero E pam pam Tutti giù per le rive Basta A me la tira mi buttano prima d'ora Quindi la E' un caso a parte Perchè Forono Non è Forono Forono E' Dishonored 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 Sì sì No non ce n'è Comunque no Cioè il titolo di sto gioco ci stava Si è giocato E' rappresentato come nella storia Cioè che nella storia c'erano veramente I co I Le battaglie o tutto erano per onore I duelli proprio alla fine Ma qua non è per onore Qua è il massacro e il devasto sceso in terra Che è diverso Cioè proprio onore qua non ce n'è No ma Cioè Onore Cioè E' come se su Cod dicessi Se vedi uno ed è girato di schiena Tu puoi Tu miralo Ma aspetta che si gira prima Per fare le cose giuste Così ha tempo di vederti anche lui E' la stessa cosa Cioè qua nel vedi uno per terra Te per onore Dovresti aspettare che si tira su No col cazzo Cioè è come se vedi un due contro uno Ti infili in mezzo Quindi è proprio il pensiero del gioco Che hanno un po' sbarionato a farlo Vai Treken 6 super mega incazzati Diretti su C Mi vado di prepotenza Vieni qua Passa giù Passa giù Vai giù Vai giù Oh Ah Ma quanti erano Vai giù Yeah Uno è andato giù No Mi ha buttato giù lui No mi sono salvato A sto giro no Ok perfetto Dai alabardiere salvaci tu Guardiamola alabardiere come ginnico Che sbaglia pure strada Andava dietro Andava dietro alla catapulta Vieni mammi Vaffa un culo C'è proprio cosa vuoi che Spiglio di sotto Vai cattivi Spacchiamo tutto Spacchiamo tutto Spacchiamo tutto Bravo Spiglio di sotto Voglio fare una squadra di quattro alabardieri solo Ok non lasciamo bene Ehehehe Nessuna bandiera conquistata crap Vado a conquistare le Capito E ne para due consecutive Spacca uno roccia Attenzione E li spacca A manetta Prendo anche a spadate l'aria Ammazzo l'ossigeno pure Alla barriera è proprio dispersa in questa partita Hai visto? Giro a vuoto No, mi hanno preso in quattro Buono Attenzione a vendetta Che fettecchia Che fettecchia Morto male lì così Anche lì Vendetta a manetta Quanto sto fa? 5-2 Sei di sopra Arrivo Arrivo Vabbè Ma sono rinforato Ah ok Prendiamo una spadate di 10 di botta No Ho attivato la vendetta Stavo seccando uno rocci Ma ha distrutto un altro rocci Buono Dai vai sfondalo il cavaliere No Adesso aspettiamo un attimo la fine di questo scontro E poi rientra Bella Bravo Poi c'è qualcuno qua sotto Fettecchia Oddio che da Sei volato sotto? Sì no Gli è un millimetro Solo che l'agganciamento ne ha continuato Ti è resuscito come Gesù Cristo Vai vai Devastiamo tutto Dai andiamo a viottare questo qua sopra Vai vai Figa Oh questo è il bullismo C'avevi uno rocci dietro Te l'ho sbattuto giù Ok Fede che cazzo da un di sotto Perfetto Dobbiamo prendere la C Che siamo indietro Chi è questo? No Troppo lontano Scherzano Avvicinati Piccionaia Avvicinati No Bastardo Mi sentivo Aveva il senso di ragno attivo Hai provato a fare la provata Se hai volato giù male No Abbiamo scritto di sotto Dalla battenza dietro Ho messo Tanto l'ultimo momento Sessi di ragno No 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 Troppo qui Sessi di raggiungere Sessi di raggiungere E' un'altra Che è una parola E' un'altra E' un'altra Uè mamma, uè mamma, uè mamma, uè mamma Mamma mia, ne ho devastati due malissimo Vado a rianimare quello la e vado a prendere A Arrivo, arrivo, arrivo Max Damage Ita Sei pur italiano, arrivo, arrivo Ma si ma se mi dici ho bisogno di un'armazione vengo lì per rianimarti Te ne sei già spawnato per il cazzo tuo e vaffanculo allora Ok, mamma, uè mamma, uè mamma, uè mamma, uè mamma, uè mamma, uè Uè mamma, 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 uè mam azione io morto merda è il cavaliere ti bombardo a lontano no beh adesso mi ha ucciso una cavaliera quindi ok però comunque il cavaliere visto che ha le frecce o le bombe però è partita no ok dai elmio dai elmio dai elmio vendetta non andrà in galera vendetta vai buttalo di sotto se qua dovrebbe tentare di sbatterlo di sotto questo calma bella riali ma mi oppure conquista ma se sembra che di animi almeno uno ok ok dietro al chiedevo non faccio un cavaliere bella 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 usa una boccetta serie nei tre no ok conquistiamo dai 10 punti ma no dai non va qua conoscenza Occhio! No! 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 Mettere il tuo lago, porca troia! E' fettente quella! Mamma mia! Te ne sei fatti 10, quello la 20! Mamma mia, è una bestia quello proprio! Un po' cosa mi ha dato? Corazze, corazze! Che alla fine... Bella sì, dopo questo direi che possiamo chiudere! Sì! Bella! Allora... Sì, sulle note di questo bel gioco... Un po' bagnato! Sì, sì! E soprattutto molto anche... Come abbiamo visto sia in questo che l'altra volta Sono i personaggi che sono sbilanciati... Ma di brutto! Ammazzo l'ossigeno, mi fa morire! Oh, è vero! Ogni tanto non so se avete notato, ma a me... Il mio cansei tira spadate, nel mio subconscio tira spadate a cazzo Anche se non c'è nessuno davanti! Comunque sì, sperando che questa serata, diciamo, vi abbia fatto passare un po' il tempo E abbia fatto fare qualche risata Chiudiamo e ci becchiamo alla prossima Sì, sì, sì! Anche perché fai che Ghost Recon lo prendiamo in settimana, ma probabilmente streameremo ancora Frohno Quindi, comunque... Bella! Alla prossima! Bella!